Come avevo già detto tante volte, non sono solo io, ma magari è l'idea che porto, la voglia che ho portato e magari anche portare un po' più di cattiveria, volevo dire di giocarmela con i miei compagni, capito? Quindi è proprio portare nuovi stimoli, non solo a me, ma ai ragazzi che giocavano prima in difesa. Quindi è un insieme di fattori che poi ha portato anche a fare tre clean sheet, quindi non subire gol per tre partite consecutive, cosa che comunque per una difesa come la nostra è estremamente importante. Non ho veramente la più palida idea di cosa potrei fare il prossimo anno, anche perché ho un altro anno a Piacenza, non so che intenzioni abbiano. Io posso solo dire che qua mi sono trovato alla grande, perché comunque a Piacenza non ho trovato lo spazio, non ho trovato la fiducia che ho avuto qua. Qua sono arrivato per rispondere alla prima domanda, dopo questi tre mesi qua posso dire che sono non carne o pesce, ma invece che fumo sono arrosto, quindi mi sento bene, mi sento arrosto ed è stata una vera botta di fiducia questi tre mesi per me. In un'età in cui comunque non sono più giovane, cioè capiamoci, non sono più giovane per il mondo calcistico, quindi comincio ad essere un difensore su cui magari le squadre devono puntare per portare un po' di esperienza, per portare un po' di cattiveria, per aiutare magari i ragazzi più giovani. E quindi insomma tanta fiducia e insomma carica per il proseguo della mia carriera. Da quando sono arrivato, comunque mi ricordo avevano 19 punti, quindi eravamo una squadra sfiduciata, in difficoltà e tutto. Abbiamo cominciato da quello che mi ricordo io subito bene, subito forte, però non posso non dire insomma quella con l'Aquila Montevarchi, perché da lì c'è stato proprio un cambio di direzione, non tanto proprio come mentalità. Tra l'altro ci eravamo pure ritrovati negli spogliatoi tra di noi, tra noi ragazzi per parlare, quindi sono state dette anche delle parole per motivarci, per non andare incontro a una retrocessione che una squadra come la nostra, comunque come ha detto prima, dei giocatori che alle spalle hanno dei campionati, hanno dei campionati vinti, non si poteva continuare con alti e bassi e rischiarci una retrocessione. E quindi penso che veramente dopo quella partita c'è stato proprio un cambio mentale, ci siamo riuniti, ci siamo compattati e siamo andati a testa bassa contro tutte le squadre che abbiamo trovato e abbiamo preso in quelle cinque partite in cui non abbiamo perso, abbiamo fatto il filotto e ci siamo presi la salvezza.